Ho sempre fatto ore e ore in treno, in autobus, nel traffico. La Cassia è una delle strade più trafficate di Roma e naturalmente io ci vivo, quindi devi uscire la mattina prestissimo e sperare che non ci sia una fila chilometrica, ma ovviamente ci sta la fila e quindi io piano piano vado alla fermata dell'autobus, aspetto l'autobus che non passa mai. Ultimamente mi sono scaricata sul telefonino l'applicazione per vedere quando passerà l'autobus, però quasi mai è vera, quindi ti ritrovi ad aspettare 5-10 minuti, incontri tantissime persone. L'altro giorno ho incontrato una signora, era domenica, è rinomato che la domenica non passano gli autobus e eravamo sedute tutte e due una accanto all'altro io stavo facendo una cosa con il cellulare e lei stava facendo le parole crociate, quindi eravamo tutte e due così e non ci siamo accorte che ci è sfrecciato il 201 dopo 40 minuti che aspettavamo, ci è sfrecciato davanti senza fermarsi. Allora questa signora si è alzata e gliene ha detto di tutti i colori, mi vergogno un po' a ripeterlo, però si è alzata e si è messa a dire, sto figlio della mignotta perché questi passano veloci, non si accorgono manco che c'è la gente che sta aspettando e io ho aspettato 40 minuti. Senti bella, andiamo alla fermata del 301 che sta 100 metri più avanti ma c'è la possibilità che possa passare un altro autobus. Grazie.